Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, io sono Song e oggi è il secondo giorno a Shanghai e ogni volta che torno in Cina vengo affascinato dalle efficienze di alcuni servizi che ci sono. Per esempio questa volta che sono tornato ho dovuto spedire un po' di cose ai miei amici e ai miei parenti che mi hanno chiesto di comprare alcune cose dall'Italia e ho fatto tutto velocissimo. Velocissimo perché il servizio corriere qui in Cina è molto molto efficiente. Cioè in Italia per esempio, giusto per fare una comparazione, quando vado a spedire le cose devo prima andare sul sito, compilare il formulario con tutte le informazioni che riguarda il peso, quella dimensione del cartone eccetera eccetera, poi vado a stampare l'etichetta, vado ad imballarlo e poi vado dal corriere oppure corriere arriva a casa mia per prendere il pacco. Però tutto questo ci si mette circa un giorno tra la compilazione e la preparazione e poi il corriere che ti viene a prendere tutta la roba a casa. Invece qui ragazzi in Cina ci ho messo un'ora per fare tutto questo. Quindi sono rimasto molto sorpreso da questa differenza e per questo che ho deciso di fare questo video per condividere con voi questa esperienza perché adesso mi manca l'ultima cosa da spedire e lo voglio fare insieme a voi così che possiate vedere i passaggi ma soprattutto quanto tempo ci metto a spedire una cosa e poi mi dite voi cosa ne pensate. Allora ragazzi il corriere che uso io si chiama Sunfeng o SF che è uno dei corrieri più grandi e più efficienti della Cina tant'è vero che è anche quotato. Poi vado su qua che è la spedizione, compilo i miei dati questo è il dato riguardante il chilo chi manda quindi il mittente, quindi metto tutte le mie informazioni e poi vado a mettere il destinatario quindi qua il nome, telefono, l'indirizzo una volta che ho compilato i dati premo conferma e poi qui giù vado ad inserire tutte le informazioni della spedizione per esempio qua mi chiede il quando voglio che il corriere venga a ritirarlo io metto oggi entro un'ora quindi entro un'ora mi deve ritirare l'oggetto che andrò a spedire poi vado a specificare che oggetto, di che oggetto si tratta poi vado a mettere il chili, saranno due chili qua se voglio posso fare la foto poi do conferma pagamento, posso scegliere quando pagare per esempio se pagare al momento che mi viene ritirato la merce questo invece è pagare alla fine però per attivare questa opzione bisogna prima registrare il proprio conto ed infine c'è il metodo di pagamento di quando arriva cioè lo paga chi riceve la merce quindi in questo caso lo pago io e mi chiede di come pagare cioè di utilizzare Alipay, WeChat Pay quindi vado a selezionare la prima opzione e do conferma qua mi viene visualizzato quando arriverà in questo caso arriverà domani prima delle 18 e il costo è di 14 Yen quindi sono circa 2 euro e qualcosa e la distanza è da Shanghai alla città dove vivo quindi sono circa 500-600 chilometri quindi questo tratto ha 14 Yen 2 euro e passa poi qua volendo posso assicurare la merce qua mettete il valore un valore qualsiasi della merce e poi vi esce il costo per esempio se io metto che questa merce ha 1000 Yen vedete pago soltanto 2 Yen quindi comodissimo no? 0,2% e poi infine conferma fatto ragazzi adesso non devo fare altro che aspettare l'arrivo del corriere entro un'ora ovviamente questa spedizione l'ho prenotato oggi che è il 25 febbraio adesso siamo le 4 e mezza di pomeriggio vedete e il corriere dovrebbe arrivare prima delle 5 e 27 sempre di oggi e vediamo quanto tempo ci mette ad arrivare vedo qua che è già a 400 metri quindi dovrebbe arrivare abbastanza veloce poi ragazzi vi porto con me e consegniamo insieme la cosa da spedire al corriere ragazzi mi ha appena chiamato il corriere e guardate qua sono le 16 e 54 quindi neanche mezz'ora adesso vado giù a consegnargli tutto quindi porto la mia cosa con il secco di estelunga e andiamo giù ragazzi è molto comodo soprattutto quando sei fuori che non sei a casa quindi non hai le cose per preparare il pacco o per stampare in questo caso come fai? cioè ti trovi in difficoltà invece qui fanno tutto loro sono nella lobby dell'hotel vediamo dov'è dovrebbe essere fuori vado eccolo lì ragazzi lo vedo già il fattorino guardate ragazzi ora mi sta prendendo le cose ciao 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 vedete mi ha chiesto se voglio aggiungere una scatoletta gli ho detto di sì e quindi adesso me lo aggiunge l'ho messo ragazzi due chili ma lui mi sta dicendo che è soltanto un chilo quindi in totale 13 yuan adesso lo vado a pagare con Alipay vedete pagato 13 yuan e sono le 16 e 59 quindi adesso posso lascio tutto lui e è fatto quindi grazie mille ciao Italia ciao quindi ragazzi il fattorino simpaticissimo adesso torno su ho fatto tutto in circa mezz'ora 40 minuti massimo ovviamente se avete più cose da spedire potete compilare più formulari e poi aspettare che arrivi il fattorino che vi prende tutte le cose in una volta sola quindi in questo caso avevo soltanto una cosa da spedire ma se avevate tipo 10 cose da spedire potete compilare tipo 10 formulari e poi aspettare un'ora mezz'ora quel tempo che necessita che arriva il fattorino e vi ritira tutto quindi devo dire molto efficiente quindi ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate del corriere qui in Cina e non dimenticate di mettere un like a questo video se vi è piaciuto e di iscrivermi al mio canale per supportarmi e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video bye bye